Alla vigilia della quarta frazione della Tirreno Adriatico, scattata da indicatore, l'aretino Rinaldo Nocentini è tornato sulla tappa che nella giornata precedente si è conclusa nella sua città ad Arezzo. La gamba c'era, non c'è stata purtroppo tanta fortuna, ho forato due ruote a 10 dall'arrivo, ho fatto tanta fatica per rientrare là per prendere le posizioni ma poi ero senza gambe per fare lo sprint, comunque oggi ci riproveremo. Tanti tifosi, è normale, sono le mie strade d'allenamento, le ringrazio tutti e speriamo di potergli dare una gioia in questa Tirreno. E dopo la Tirreno Rinaldo? Dopo la Tirreno Sanremo, giro i Paesi Baschi, classiche e giro. Quindi un'altra importante stagione per te? Sì, si spera, si spera che inizi a girare un po' anche la fortuna perché per il momento non sono stato tanto fortunato con le strade bianche ieri, però ancora la stagione è lunga, sicché proveremo sicuramente a essere là.